Nella mattina della coppia ci siamo andati ieri, un settemane, con mia mamma, c'era un vermetto che ieri quando siamo usciti a Nervi, dove erano le tartarughe, è scappato, è scappato e... E dove è andato? In casa della mamma del buco, poi poi c'era ancora e lo abbiamo buttato fuori e faceva finta di morto. Sì, ma porca miseria, e le tartarughe cosa c'entrano in tutto questo? Ma ci credo che era finta di morto, eh? Sì, ma invece non era di morto. Faceva finta di morto come... Come? Faceva finta di morto. Eh, così l'avete lasciato stare. È vero. E l'abbiamo... Ma l'abbiamo svegliato, eh? Sì. Perché quando... Poi ci è mandato e è andato da un'altra parte. Bene.